Stile climbing è la cosa più banale di questo mondo, salire alle scale anziché utilizzare l'ascensore. Il nostro motto è Stile climbing, boicotta l'ascensore. Purtroppo anche per salire a primo piano c'è questo costume di prendere l'ascensore. Noi vogliamo entrare in tutti i condomini d'Italia per poter far sì che tutta la gente, piccoli, grandi, anziani che possono farlo, di utilizzare le scale perché come nel nostro motto diciamo finché abbiamo le gambe cerchiamo di utilizzarle. Il benessere, è il benessere che fa tutta l'attività fisica, quindi questo rientra in un'attività fisica normale, quotidiana, per cui fa bene alla salute, ci sentiamo meglio mentalmente, ci sentiamo meglio fisicamente, previene declino cognitivo, previene patologie cardiovascolari, quindi icdus, previene tumori, è tutto accertato. Non siamo certamente noi, siamo un'organizzazione sportiva, l'organizzazione sportiva Agli, quindi non siamo noi a dimostrare questo. L'hanno dimostrato chi fa la ricerca scientifica. Noi invitiamo tutti i cittadini che abitano nelle metropoli a utilizzare di più le scale e non l'ascensore, non solo per un proprio beneficio come dicevo, ma anche perché in questo modo avremo una riduzione della spesa energetica dei singoli palazzi. Risparmiare oggi non è poi una cosa così banale. Grazie a tutti.